AWC, Big Pilot, un viaggio nell'eccellenza dell'aviazione e dell'alta orologeria. La storia di AWC nel campo dell'aviazione inizia nel 1896 quando, per la prima volta, un orologio AWC fu utilizzato in volo. Tuttavia, fu solo successivamente che la Maison Svizzera si dedicò allo sviluppo di orologi progettati appositamente per l'aviazione, diventando uno dei pionieri del settore. Nel 1936, AWC realizzò il primo orologio specifico per piloti, su ispirazione dei figli dell'allora manager Ernst, Jakob Omberger, appassionati di aviazione. Questo orologio presentava caratteristiche rivoluzionarie come un cristallo infrangibile, sfere e numeri ad alto contrasto, ghiera rotante e un robusto scappamento antimagnetico, resistendo alle temperature estreme da meno 40 gradi centigradi a più 40 gradi centigradi. Il calibro utilizzato, l'AWC 83, fu il precursore di una lunga serie di innovazioni. Il primo AWC Big Pilot, con referenza AWC 431, venne inchiegato dalla Luftwaffe, che ricevette mille esemplari. Questo orologio, con un imponente diametro di 55 mm, è ancora oggi l'orologio da polso con il maggiore diametro mai realizzato da AWC. La scelta di una dimensione così grande era guidata dalla necessità di leggibilità e dalla praticità di ruotare la ghiera anche indossando i guanti. Sfere e lancette luminescenti garantivano la leggibilità notturna, e il suo impiego nella Luftwaffe sottolineava la robustezza e l'affidabilità richieste in campo militare. Nel 2002, AWC ha lanciato la nuova collezione Big Pilot, incorporando il movimento 5011. La referenza 5002, con una cassa in acciaio inossidabile dal diametro di 46 mm, ha mantenuto un'impressionante presenza. Il quadrante, fedele alla tradizione Flieger di tipo A, presentava un nero profondo, numeri arabi prominenti, indici e contatori bianchi ben visibili, sfere luminescenti e una finestra della data posizionata alle 6. La corona a cipolla, un dettaglio storico essenziale per la presa con i guanti da pilota, e il fondello lavorato con l'incisione di un aereo, aggiungevano un tocco di autenticità. L'AWC, Big Pilot, rimane così una pietra miliare nel mondo dell'orologeria, unendo il fascino intramontabile dell'alta orologeria svizzera con l'audacia e la funzionalità richieste nell'aviazione.